Il pareggio di bilancio inserito in Costituzione però non ci vincola un po' troppo, non è un legarsi un po' le caviglie, prima parlavo di sviluppo? Sì, certo, ma non l'ho fatto io, io non lo condivido. Il vicepresidente del Parlamento europeo Pittella liquida così la legge approvata lo scorso 17 aprile dal Parlamento italiano, il pareggio di bilancio in Costituzione che obbligando l'Italia a non sforare ha come conseguenza di tagliare per i prossimi anni la possibilità di fare investimenti pubblici decisivi, cultura, infrastrutture e sociale. L'occasione è la seconda edizione della Scuola di Alta Formazione Europea destinata agli amministratori locali ad Ancona il 19 e 20 maggio alla Facoltà di Economia. L'attualità è la paventata uscita della Grecia dall'euro. Un fallimento della Grecia avrebbe invece una conseguenza drammatica su altri paesi, a cominciare dal Portogallo e dalla Spagna, non escluderei anche la nostra Italia. Obiettivi della Scuola definire il ruolo degli antilocali in ambito europeo e dare nuovi strumenti. Pensare a nuovi nazionalismi è la risposta peggiore che potremmo dare alla gravità di questa crisi. Noi siamo convinti che l'Europa non sia il problema ma sia la soluzione. Abituiamo già i nostri studenti a una visione che vada ben oltre i confini nazionali.